anche io sarei come lui quindi nel senso lo capisco benissimo cioè io ti ho sempre amato alla fine lo sai in fondo è solo che in live però insomma anche noi ci siamo conosciuti qui ti ho insultato la prima volta l'abbiamo litigato insomma ho sempre pensato un po' fossi anche tu un d***** all'inizio non è proprio neanche un d***** quindi poi invece ho scoperto che eri la persona migliore che potessi incontrare che lo sono d***** sono un dipendente e ho condiviso con te tanti bei momenti tanto questa fila qua è tua anche questa è tua vedi abbiamo già qualcosa l'uno dell'altro tra il cuore bellissima ci avete mai nascosto qualcosa? vabbè certo così è grave così è grave però di noi stanno tante cose tante bionda o mora? bionda ammazzo Martina vanno l'ammazzo scopo shanti e sposo Gaia perché l'hai ucciso? e porco di azi devo sceglierne una se l'ho ucciso te che c'è? bionda o mora?